La notte dedicata alle interpretazioni musicali ha visto emergere inaspettatamente Geolier come vincitore, suscitando sorpresa e scalpore tra il pubblico dell'Ariston. Nonostante non fosse tra i favoriti, il rapper di Napoli ha conquistato la vetta grazie ai voti del pubblico e delle radio, mirando ora al successo totale del festival. Questo evento ha sollevato nuove discussioni sull'equilibrio tra il voto popolare, quello delle radio e la voce della sala stampa. Amadeus ha espresso rammarico per i fischi ricevuti dal giovane artista, sottolineando come il dissenso faccia parte della storia del festival, ma criticando la mancanza di rispetto mostrata dal pubblico. Ha inoltre difeso l'integrità delle votazioni, confermata dall'assenza di irregolarità secondo la RAI e la supervisione di un notaio. Il trionfo di Jolier ha attirato l'attenzione sull'ostilità online, con commenti negativi e aggressivi apparsi sui social media. Amadeus ha invitato a ignorare G.E.L.E. hater, ricordando che il vero apprezzamento viene dalla vita reale, non da quella virtuale. E tu cosa e pensi della notizia?